Musica Che schifo Ma Ragazzi Che puzza, aprite le finestre Luciano, anch'io soffro di allergia E prendo pollini Grazie Oh 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 Finalmente si respira Ragazzi, oggi interroghiamo E il primo ad essere interrogato sarà... Luciano Come ti permetti Sai subito dal preside Ma perché siete qua? E perché Luciano sta dormendo? Luciano? Luciano? Adesso mi viene in mente Ha preso il lato estaminico E quindi si è aumentato Luciano sei dal preside? No dai No dai mamma No dai 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 No dai